Buongiorno 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 A ieri a chiamare la notte è stato un piacere immenso che hanno fatto abbastanza anni senza mirare mi riferisco qui nel gruppo teatral che hanno fatto un paese con un humor antiano rubiano cura soleno Efter parte Hoppe di Bosnano corso e a ieri a noci noi di Flevolante Vicindario avevo il piacere di a disfrutar di attuazione di un elenco sumamente talentoso e riba a nivel profissional. Varios di nanta veterano non di gruppo teatral Talia, come conosci come quarenta e quattro anni passare tempo avevo un teatro di refineria Shell na Damnegro Ponte. Mi te referi qui è una attore e attrice nella maniera un Rina Penso Erick van Omeren Mila Palom e Jenny Frey e con questo quartetto qui avevo il reforso di un altro gran personaggio nella maniera Greta Trappenberg Anna Marie Braffheit Gerald Raffaella e Utsal Victoria Nantur va in direzione di Jackie Bernabella Jackie Buongiorno Regisora Paturti Compatriote Nanti Corsau Yaruba vive anche in Holanda e un'altra 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 dove di add la po' un'altra c'è un'altra 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 A me ti 75, Dokico! Ahah! Come è inizia a parlare di voi debattere un buon rato con noi, che abbiamo già fatto un po' di presentazioni, e poi ci sono un po' di casa. Grazie a tutti. Grazie a tutti.